Abbiamo scritto una lettera aperta al Presidente della Repubblica per ricordargli che dopo aver usato il guando di velluto nel controfirmare il Lodo Alfano, dopo aver usato la piuma d'oca nel controfirmare la legge sulla sicurezza, utilizzi questa volta la scimitarra, una parola che lui stesso ha usato, nel respingere la legge sulle intercettazioni, il bavaglia all'informazione che interessa molto a voi giornalisti, che è già stata approvata un ramo del Parlamento e che si accinge ad essere approvata all'altro ramo del Parlamento. E al Presidente della Repubblica abbiamo ricordato che riteniamo queste leggi liberticide, anzi ad uso e consumo di una maggioranza e un governo che si fa le leggi come gli pare e piace e non gli interessi ai cittadini, non lo diciamo noi ma l'ha detto lui stesso nella lettera che ha scritto al Capo del Governo, lui ha scritto testualmente che la legge in materia di sicurezza è piena di irragionevolezza e di insostenibilità e che gli appare di rilevante criticità e per questo aggiunge che è contraddittoria, oscuramente formulata di dubbia interpretazione non rispondente ai criteri di stabilità e certezza della legislazione. Con queste accuse che lui stesso, Presidente della Repubblica, ha dato di una legge, noi ci saremmo aspettati che a norme dell'articolo 74 della Costituzione rinviasse alle Camere per una rivalutazione della legge prima di firmarla e non si militasse a firmarla. Credo che questo sia il comportamento doveroso di una forza politica che fa opposizione in Parlamento e non accettiamo di essere criticati dal Presidente della Repubblica perché gli ricordiamo i suoi doveri. Di Pietro, il Presidente della Repubblica ha stesso, senza mai fare riferimento a lei, però possiamo immaginare che il referente fosse lei nelle sue dichiarazioni, ha detto chi mi critica non conosce la Costituzione, non può immaginarsi da parte mia nella sostanza. Questo era il contenuto delle sue dichiarazioni, un atteggiamento diverso da quello che ho avuto parlando della legge sulla sicurezza che è stata promulgata pochi giorni fa. Invito tutti i cittadini, gli ascoltatori, di leggere sul sito internet antoniodipietro.it o italiadeivalori.it, la lettera integrale che ho iscritto al Presidente della Repubblica in cui gli ho messo tra le virgolette e gli ho ricordate le parole stesse che lui stesso ha usato nel qualificare la legge sulla sicurezza. Lui stesso ha qualificato questa legge, una legge che solleva dubbi sul piano giuridico ed è insostenibile come provvedimento perché è irragionevole e, appunto, come lui stesso dice, infarcito di contraddittorietà, di dubbia interpretazione non rispondente a criteri di stabilità e di certezza della legislazione. Rispetto a tutto questo invito i cittadini e gli ascoltatori a rileggere l'articolo 74 della Costituzione che dice, appunto, che il Presidente della Repubblica, prima di promulgarlo, non quando la frittata è fatta, rimandi alle Camere per una rivalutazione della legge. Per questa ragione vogliamo capire chi è che non conosce la Costituzione, se è noi che abbiamo avanzato questi dubbi o se è qualcuno che ci critica e con riferimento al Capo dello Stato che noi rispettiamo come istituzione e come persona crediamo di avere il diritto-dovere, in quanto eletti dal popolo, di ricordargli che la Costituzione gli dà non il diritto ma il dovere di rinviare alle Camere le leggi che lui non ritiene confacenti all'ordinamento. Ricordargli questo non vuol dire violare la Costituzione o non conoscere la Costituzione. Forse conoscerla troppo bene e per questo diamo fastidio. Oggi a Prodi in Aula il decreto legge anticrisi, con tutta probabilità il Governo porrà la fiducia in Aula alla Camera. Ieri c'è stata la votazione, il primo ok in Commissione Bilancio e Finanze e voi avete votato uno ieri. Il Governo e la sua maggioranza parlamentare a servista se la canta e se la suona come gli pare piace, ponendo voti di fiducia a provvedimenti che altrimenti non passerebbero mai. Ci sono gli stessi parlamentari, le stesse forze politiche del centro-destra che del sud Italia si lamentano perché hanno ricevuto e tagliate totalmente i fondi. C'è settori interi che dalle piccole e medie imprese allo spettacolo, alla cultura, alla ricerca che stanno recalcitrando e sono addirittura scioperando. C'è addirittura come unico modo per trovare nuove risorse quello di fare condoni fiscali ancora una volta rispetto a evasori fiscali che dovrebbero pagarle le tasse e non essere condonati per questo. Rispetto a tutto questo noi dell'Italia i valori che siamo forza politica unica, forse vera sicuramente, forse addirittura unica forza politica in Parlamento, che dobbiamo fare se non far sentire la nostra voce. Qualcuno ci dice che per questo noi siamo contro la Costituzione, noi siamo in difesa della Costituzione.